Buon appetito! come stai, gira sulle mani faccio un poco di freestyle, scaldo questa sala qui, canto al già lo sai, che quando prendo il picco non mi fermo mai 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 mai, un raga no babamani, tutta la gente lo sa che lui spacca col raga, con il pop, col danzale e tutto quello che fa, sulle manine se senti il reggae music, sulle manine se senti il danzale, sulle manine se senti il danzale, sulle manine, sulle manine se senti il danzale, sulle manine se senti il danzale, sulle manine... come fa? 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 Rekin music! Come fa? Rekin music! 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 Listen to me a second! rimettimela dalla come fa raga la filosofia del come fa raga la filosofia del come fa raga la filosofia del la filosofia del come fa raga la filosofia del come fa raga il profumo della come fa raga la filosofia del come se fossi jamaica il profumo della la filosofia del la filosofia del come fa raga la filosofia del aiuban langside golden beers rappresentato da kian e matt sulle manine rike rike come fa dopo l'inverno la mia pelle è gelata ma adesso il sole mi riscalda il sole mi riscalda salto fuori dal letto e chiedo un bel set e se mi chiedi come sto io ti rispondo che penso che l'oro e il danaro siano facile che la fortuna non esista perché io sono Rastamana non lascerò che Babilonia prenda la mia gioia perché io sono Rastamana combatto a fianco di Selassia come fa è una bellissima giornata ringrazio già di poterla vivere dopo l'inverno la mia pelle è gelata ma adesso il sole mi riscalda mi abbraccia in questa splendida giornata ringrazio già di poterla vivere dopo l'inverno la mia pelle è gelata ma adesso il sole mi riscalda il sole mi riscalda è il tuo nome questo è… la mia pelle è… rastamana 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 e tu lo sai che intende reggae music in positive vibes Ne volete ancora si o no? Si o no? Reggae! A tutte le principesse si chi la sa chi la sa? Come fa? Sì! Sì! Come fa? Come fa? Sì! 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 no sim mi sono in corso? sì o no? sì o no? sì o no? Che dici Kian? L'ho vista sì A beautiful dial Yaimi, come fa? Vedi quando gira stasera che bella via Al corpo di una fata A mezza testa è stata La più desiderata So che sei un'avvocata di lei Io non ne posso fare a meno di guardarla, sai? La tipa mi tira scemo con suo sexy justine I soci mi dicono baba ma perché non te la fai? E mi parlano sempre di lei Io gli dico che il mio nome è baba ma ne sono una reggae star Non so se la tipa giusta possa essere una fan Mi sento la mattina e ascolto il raga da un sal Mentre invece le si ascolta l'arcar Mi fa un gesto con le dita e grida rock and roll Tira su le mani per babamane Mi sorrido e faccio un gesto e dico babamane Originale con il microfono e mar Tieni presente che con quegli occhietti è tremenda Il modo che si muoversi la rende ancora più bella Le dico sempre sì perché se no mi dà una svella Ed anche la lontano Sulla mano! Yes! La vista che girava passeggiando per la via Era una prima fan con il busso sulle labbra Con gli occhi in una gata L'osco sguardo mi imbarazza perché La vez di quando gira con le amiche per la via Al corpo di una fata Mettante esparazata La pide si de data So che sei enamorato Yes! Yes! Ura che hanno babamane Se tu lo sai che intende Yes! Rasta farai Sulle mani Sulle mani Sulle mani Sulle mani Reggae music in again 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 Yes! Gira sa! Gira sa! Gira sa! Gira sa! Grazie a tutti 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 Yeah Grazie a tutti 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 E tu Grazie a tutti 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 Grazie a tutti